La consigliera comunale di opposizione, la dottoressa Yolanda Lotta, ha mosso delle critiche nei confronti dell'attuale amministrazione comunale di Leporano, ha affisso alcuni cartelli provocatori, estate Leporanese 2020 cercasi, sono state criticate le spese per la scorsa edizione dell'estate Leporanese. Abbiamo qui la replica del sindaco di Leporano, il dottor Vincenzo Damiano. Sì, intanto buongiorno a lei, vorrei dire questo, che si continua a parlare dell'estate Leporanese 2019, io direi di guardare al futuro, ormai tanti video abbiamo visto che si continua ancora a parlare dell'estate Leporanese 2019, mi sembra di aver più volte ampiamente chiarito relativamente all'organizzazione dell'estate Leporanese scorsa, quindi non ritengo opportuno dover ritornare sull'argomento. Per quanto riguarda l'organizzazione dell'estate Leporanese 2020, direi che sicuramente questo è un anno particolare. Ora, qualcuno dirà che noi vogliamo trovare l'alibi dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza Covid-19, ma è evidente a tutti che noi fino alla fine di maggio, i primi di giugno di quest'anno, ancora non sapevamo se ci sarebbe stata la possibilità di poter organizzare eventi e come organizzarli, visto le misure restrittive notevoli che ci vengono imposte a livello nazionale e a livello regionale. Quindi nel momento in cui la situazione si è un po' schiarita, abbiamo capito che ci sarebbe stata la possibilità di organizzare qualche evento, sia pure in maniera ridotta, ci siamo attivati. Come lei sa, ci sono state tante polemiche relativamente all'organizzazione dell'estate Leporanese 2019, si è parlato del direttore artistico, della possibilità di affidare o meno al direttore artistico l'organizzazione e noi per dimostrare in maniera, diciamo, la nostra trasparenza abbiamo ritenuto di fare un bando, anche se non era necessario perché, come lei sa, si può tranquillamente affidare l'incarico ad un... Affidamento diretto. Ci può essere tranquillamente l'affidamento diretto, ma proprio per mettere fine a queste voci che hanno creato tensione, abbiamo dato l'indirizzo agli uffici di predisporre un bando, un avviso pubblico, in maniera da coinvolgere tutti gli operatori economici che avessero voluto organizzare questa stagione. Chiaramente questo ha portato perdita di tempo perché nella elaborazione del bando, e poi abbiamo dovuto dare 15 giorni agli operatori per poter rispondere, chiaramente il tempo è andato via. Poi ci sono state presentate tre manifestazioni di interesse per poter organizzare la stagione, una di queste da parte degli uffici è stata scartata, c'è stata una contestazione da parte di uno degli operatori economici, esclusi, quello escluso. Da parte dell'operatore economico escluso e quindi poi di conseguenza l'ufficio, valutando le motivazioni di questa esclusione, ha ritenuto opportuno annullare la determina. Quindi chiaramente in autotutela l'ufficio ha ritenuto opportuno di annullare quella determina, quindi siamo ritornati al punto di partenza. In questi giorni stiamo ricevendo alcune proposte artistiche, quindi cercheremo comunque... Che gestirà in autonomia l'amministrazione. A questo punto noi abbiamo deciso di gestire in autonomia l'organizzazione delle state leporanese, e nonostante le ristrettezze che ci sono, il dover osservare delle regole che negli anni precedenti chiaramente non c'erano, cercheremo di allestire qualche evento. Relativamente alle altre contestazioni che ci vengono fatte... Quella per esempio sulla problematica di alcuni dipendenti comunali in pensione, quindi sottolineava la Yolanda Lotta il mancato ripristino del servizio con nuove unità. Sicuramente stiamo provvedendo. Noi amministriamo, quindi chiaramente ci sono dei tempi. L'ultimo dipendente è andato via due giorni fa, quindi è chiaro che non posso chiamare in maniera diretta un altro dipendente per poterlo sostituire. Quindi un altro nostro dipendente andrà in pensione a fine anno, è chiaro che noi ci stiamo organizzando. Sindaco, l'altro punto espresso da Yolanda Lotta è su una leporano morta, con riferimento alle attività commerciali. Guardi, questa è l'ennesima campagna elettorale. A me sinceramente non risulta, sono sul territorio, ogni sera parlo continuamente con gli operatori commerciali, e io sinceramente ogni sera vedo che il nostro territorio è abbastanza vivo. Basta venire qui in piazza Maria Immacolata e vedere che i locali che sono sulla piazza sono ogni sera sempre pieni. Quindi io sinceramente questa leporano morta, questa leporano diversa dagli anni precedenti, non la vedo. Gli operatori commerciali stanno superando le difficoltà che hanno avuto nei mesi scorsi, ma io mi relaziono con loro e basta chiedere il loro parere, sono abbastanza soddisfatti di come sta andando questa stagione. Quindi ritengo un'accusa abbastanza infondata questa, che il paese sia morto. Sinceramente non mi risulta, basta andare anche sulla litorania la sera, il paese è abbastanza vivo.